...d'alleggerire ancora su Castellini, palla dentro verso Icardi che finisce a terra, calcio di rigore per la Sampdoria. Calcio di rigore per la Sampdoria, Icardi messo a terra dalla difesa della Juve. Sul pallone Eder, City di Martins, la rincorsa di Eder... Eder! Apparaggiato la Sampdoria! Il calcio d'angolo per la Sampdoria, batte Stigarribia, palla dentro, e gol! Ancora De Silvestri, che arriva per primo su questo colpo di testa! Sul settore destro scatta Marcello Stigarribia, che arriva addirittura dell'area di rigore avversaria! E sono dieci! Ha segnato Mauro Icardi!